Dei 15.587 migranti arrivati dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum a ottobre scorso, 11.533 sono stati soccorsi dalle navi italiane. Il 75%, più di 9.000 dalla Marina che impiega 5 navi nell'operazione disposta dal governo Letta dopo la tragedia di Lampedusa e prolungata da questo governo almeno sino al prossimo aprile. Numeri dietro cui si cela la disperazione di migliaia di persone disposte a salire in 200 su un gommone di 10 metri pur di scappare da Siria, Egitto, Libia e dai paesi dell'area subsahariana, l'operazione Mare Nostrum è innanzitutto un'operazione di sorveglianza e sicurezza ha spiegato l'ammiraglio di squadra navale Filippo Maria Foffi a Bari per partecipare a un meeting organizzato dai Lions Club. La presidentessa del club Buonasforza ha sottolineato il sacrificio e l'impegno delle donne e degli uomini non solo della Marina impegnate ad aiutare chi rischia la propria vita alla ricerca di una nuova opportunità uno sforzo tutto italiano perché malgrado le coste del Mediterraneo siano anche frontiere europee purtroppo a livello comunitario ha ricordato l'assessore comunale Rocco De Franchi non sempre l'importanza di questa operazione viene capita e finanziata.